Si chiama Itzy Rogers, è una bellissima modella ma è anche un influencer Ha Instagram ovviamente, ha più di 230.000 iscritti Pensate che vuole trasmettere dei messaggi di body positivity Mettendo anche foto su cinte in cui mostra fieramente la pancia E pensate che indolassate la lingerie che è davvero molto sexy Nonostante infatti la ciccia, nonostante infatti i rotoli che ha La ragazza è soddisfatta e fa capire a tutte le donne ragazze che devono potersi accettare per come sono Facendo capire che anche quella pancetta, anche quella chiamiamola eccessiva quantità di atipe Non è assolutamente brutta ma anzi è molto intrigante e conturbante Tra l'altro indossa la lingerie che a volte è trasparente e quindi si vedono anche le sue grazie depilate Va bene? Insomma la ragazza riscuota un successo incredibile Tantissimi uomini infatti la prestano non solo per il fisico e per il corpo molto sexy quindi che possiede chi ha Bene La ragazza è appressata, ha tanti followers e insegna a tutte le donne a volersi bene, ad accettarsi Bene Iscrivetevi, commentate Ciao